ciao a tutti sono vittorio e oggi siamo qui su minecraft con simo e sono in creative no dai scherzo e c'ho il jetpack e anche simo c'è il jetpack ce lo siamo craftato il jetpack tanto guardate non è che richiedeva poi così tanti materiali ci sono fatte anche le zampettine per c'è un pikman zombie nel mondo nostro no non ci credo è spawnato un ragno dentro il mio macchinario perché non lo ammazzi? l'energia ce l'hai ammazza non ammazza i ragni vabbè oh e ora come esco? eh non c'ho più esperienza aspetta ammazza il ragno oh che culo andiamo a vedere un po' le modifiche che abbiamo apportato apriamo la cesta dei minerali e non c'è niente quest'altra cesta vabbè non c'è praticamente più niente da nessuna parte qui le galline non spawnano vabbè qui abbiamo questa bellissima chest buggata e ah è vero non c'ho esperienza aspetta ammazza la strega sono pronto sono pronto sono pronto non sono pronto vola oh il jetpack l'ho ammazzata l'ho ammazzata qui abbiamo fatto la piantagione di funghi porcini no facciamo il jetpack e le zampine le hai prese? no e le zampine le hai prese? no come? ah ma se le zampine sono quelle per non farti male ah ma guarda che per andare veloce sono i pantaloni eh ah ma guarda che per andare veloce sono i pantaloni eh come avete potuto notare qui abbiamo l'electronic separator sotto abbiamo una un acclus accumulator e fa tutto il lavoro qui un altro generatore di corrente e qui tutti i nostri materiali tutto qui dentro tutto 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 e ci manca la redstone la polvere da sparo l'uova no purtroppo le mie uova le mie uova le mie uova le mie uova non corri? madonna quanto va piano con il jetpack eh le mie uova 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 Se no non erano quelli Come non gli arriva energia Ma a me la cosa non mi torna E' che non funziona Quello lì Per vedere? No, il mob, mob, mob Perché non ha lanciato un ragno Ma mi era spawnato un ragno e non lo ammazzava Ha lanciato un ragno, non ha lanciato un ragno Non è che gli manca l'energia? Eh? Ma chi? E' piena Vabbè Si accede al magazzino con un click Cos'altro possiamo fare? Ah, giusto, giusto, giusto Completiamo adesso una bellissima quest Il nether Eh, se c'è il pigman qui Già all'inizio del video Secondo me appena hanno visto il pigman L'hanno pensato Perché c'è il pigman? Ecco qua Ecco qua Il nether Il nether Il nether Completiamola Completiamola Eh? Hai già capito? Non ho già Completiamola Ah, questo? Si, con cosa? Il nether Bravo Nooo Ripiglio il cosino E riscrivo tutto da capo E poi ci si rivede Vai Eccoci Siamo tornati L'abbiamo fatto L'ho riscritto tutte E noi abbiamo completato Andare nel nether E adesso noi dobbiamo completare Tornare a casa in vita Oh, non ho fatto la vera La vera è stata Qual'era il problema? Eh, non ho fatto la vera La vera è stata Ok Vedete? Sto venendo Sto venendo A casa Il phantasm E' pieno Aspetta un secondo Aspetta un secondo Sì Aspetta un secondo Ok Eccoci Allora Cosa facciamo? Altro Ehm Sì 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 Ahà Tipo Ci dica tutto Ci dica tutto Eh Prima di far quello Santi Demà ci sciogliano Wake up Wake up Oh 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 Nulla Oh Dov'è? C'è alcuna strega? Dov'è? Oh 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 No No Mia Senti Sto morendo Anzi Sono morto Dov'è? Ti vedo, eh Dov'è? Aiuto, mi lasci qui solo con questo coso? No, è qui No, è qui, è qui Non è andato via Ma questo vuole ammazzare me Ecco, ho visto Guarda, guarda Come l'ammazzo io questo? Come, come? Eccolo! Ti ho visto, eh? Dove sei? Ah, il sovritetto Mi teletrasporta anch'io come te, eh Non ti credi Allora, facciamo la latte per i miei esercizi Sì, sì, vai, vai Lo smiom compressor Quanti diamanti abbiamo? Quanti ce n'hai? Dieci diamanti? Dieci diamanti? Me ne dai due? Sì, va Per favore Da, per favore, ti prego Porca puttana Ora te tu ma di come cacchio prendo la polvere di diamante Eh, nel crasher Tu mi ne sai No, nel crasher No Eh già, mi sa proprio di sì Io ti ho detto che voglio questi Mi dici come... Oh, questo Dai, va messo nel crasher Che fai te? Mi vorrei che te chiede di diamante Oh, grazie Difficile, eh Io cosa dovrei fare? Dovrei costruire tutto, mi sembra Quindi, come si faceva? Ci vuole lo steel casting Ci vuole lo steel Ci se l'hanno e lo steel? Ce l'hai lo steel? Oh, oddio, che se l'hanno Stil, stil, stil Non abbiamo lo steel Come no? Ce l'hai te? No Non avevi? Ottimo termine Io sto cercando lo steel Non lo vedo E ti sto chiedendo Hai visto lo steel? No, non c'è Ma come è possibile Fintare lo steel? Oh, vedete Dov'è la spada? Deviamocela di mano Ma dov'è Se l'ho scritto bene Se l'ho scritto bene, sì No, no, ho scritto bene Non c'era, non c'era Va fatto Va fatto I don't know So che ci vuole il coal Coal, coal, coal Coal Coal, real Coal 16 blocchi di koal via aria e io nulla no no questo gli è pieno no non è pieno ora lo svuoto va riempio riempio quanto still mi serviva per fare cosa devo fare 4 prima ne faccio 4 poi lo lascio farmare abbiamo finito il ferro no è vero ma non è bravo è? è uguale 4 e che lo farei il video mescolati di più perchè c'è una parola di mischi cosa devo fare allora adesso questo io tutto no stai fermo faccio io 2 giusto si ma lo buttai per terra non mi fa buttare dentro ok manca si no lavora 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 senti che rumore che fanno rumore sti cosi eh boia eh per fare io non voglio fare mica il jetpack come li fa allora tieni ti butto giù altri due diamanti mettili a cosare ok tieni tieni ero via dov'è capitano è al suo posto dov'è davvero davvero perchè non volo più mi sono scordato il jetpack di che prima prima io eh eh ma già fatto grazie uffa uffa non mi fa più volare non ho più esperienza non ho più esperienza non ho più esperienza qui qui e scussi non ci credo non ci voglio credere sta facendo lo steal ok sono qui ora aspetto che finisce lo steal e poi si ritorna a dopo ecco eccoci qui a tutti stiamo mettendo la velocità a questo compressore guardate come corre 8 e 9 vai fatti grazie mille comunque ne basta è vuoto che bastardo scomento ha messo il suo lo sapevo avevi messo il tuo hai messo il tuo lo sapevo no no mica il mio coso è pronto il filo c'è robbie non funziona robbie come mai no 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 che cazzo ti rivi perchè ti vuoi perchè ti vuoi la charge part della station cheeeh te ne vai a mhm charge part vai fai l'altro fai l'altro fai l'altro fai l'altro fai l'altro fai l'altro si ok la voglio nooo nooo noooo io si poi meunkt Poi me ne fa un altro A buono No, no, no Manca un RCC Manca un... ah ma sei qui Ma va a fancuffia Fattore a mettere il trasporto Da lui che gli è in casa 2.000 proprio Ce l'hai un blocchetto di redstone? Un blocchetto? Un blocchetto Un redstone Un secondo, stai fermo Non levarlo, tanto ho già fatto Eh? Aspetta un secondo Aspetta un secondo Sì sì Quello lì certo L'hai levato Scommetto, vero? Ora ho già T'avevo detto non levarlo E te? L'ha levato Ora Quello lì che t'avevo detto Allora Ecco Ma io mi trasporto sempre Nei momenti migliori Chi è? Apri le porte Sto robottino Come no? Allora non sa fa nulla Aprile la porta Non l'apre Davvero? Per andare a ricaricarsi Sì Bene E poi E poi ritorna da me Vero? No E che gli dico Robby Vieni qui Non abbiamo Né stone Né cobblestone Bene Va a vedere eh Allora lo prendo di nuovo Oh no C'è una cesta qui giù? Oh c'è una cesta Alloy vero? Ponsi 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 Cosa sto cercando? Cosa ve lo cuocere? Ah sì ok Memoria d'accento Lo fai davvero? Sì Davvero? Ragazzi Oggi Assisterete Al digital Miner No No ne dubito Al prossimo episodio Assisterete Ah come è di fare Dai mi servono solo tre Solo tre Solo tre Solo tre Questo qui Questo qui Poi mi servono Due di questi Qui Oggi Assisteremo a Robby Evviva Il mio bambino Oddio mio Robby Robby Perfetto Dove la dobbiamo mettere la charge station Sotto terra La charge station Questa leva ha un'utilità o la posso levare? Servo? Non servano più? Non servano più? Eh no Non servano più No dai volevo metterlo il nostro charge Il mio charge Ma no sotto terra poverino Poverino piange Ah ok E ora Robby Robby Oddio Vieni 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 Oddio mi segue Dov'è la cesta? Fornace, cesta, crafting, home. Cos'è home? Non fa nulla. Ah, anche in Cudine. Cacchio. Vieni qui. Oh, dove vai? Torna qui. Andiamo al passo. Bravissimo. Non di nuovo. Robby, ammazzalo. Ammazzalo. Robby, ammazzalo. Fa qualcosa. Robby, fa qualcosa. No, c'è un jetpack scarico. Vaffan'cuffia. Questa è tutta colpa sua. Dov'è Robby? Il mio robettino. Vieni, Robby. Oddio, ma è bellissimo. E' stupendo. Ma dov'è Robby? Ah, eccolo. Ma se gli metto la roba qui e poi esco... Ah no, le butto per terra. Eh, Robby, fa un pochino schifo, Robbittino. Eh, però... Cosa sono gli alloi? Cosa sono? Gli alloi? Sì, è benissimo. Cosa sono gli alloi? Cosa? Aspetta, scriviamo. Alloi. Ecco, sì. Gli alloi, ecco cosa sono gli alloi. Eh, dove sono? Sono finiti, perché? Mi credono. Non ci sono più. Stai per finire i mind drill? Ehm... Ehm... No, sì, no. C'è un'altra cosa. Cosa? L'Inchained Metal Camera. Camera degli incantesimi, mi sembra. No, no. Un'unica casa malissima. Eh? Un'unica casa di un'unica malissima. Infatti non era quello che ho pensato? No. Che cos'era? Un'unica casa... Perché ti comprensa... Da retto... 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 Ah. Vai, metticelo. Ehm... Un momento, che facendo. Robit. Ma guarda com'è bellino. Troppo bello. Hi. I'm Robit. Ti posso cambiare il nome? RENEMT. Tar-get... Tar-get... No, non si dice tar-getta. 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 No, non si dice robit. Che dov'ho fare? Che dov'ho fare? Che dov'ho fare... RENEMT. 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 No! Ah, RENEMT. SISROBIT. Come abbiamo? Si scrive così? Guardalo. No, si scrive così? No, aspetta. Non guardare, non guardare, non guardare. Un secondo. No, non ci sono, non ci sono i miei. Aspetta, sono un secondo su Google. Come si scriveva? Ah, ecco come si scriveva. Ora me lo ricordo. Vieni qui, robit. Cioè, WALL-E. WALL-E! Eccolo, ci sono WALL-E! E non viene. No, è morto. WALL-E! Andiamo con chi? Che cattivo. Oh, WALL-E! Come ho fatto a venire qua su scusa? Ma non è caso. Sì, sì, ci sono raccogli. Follow me. Follow my will. Lo conosci, Giochino? In verbis virtus? No. È bellissimo. Ma è che si è morto? Giochino. Sì, ciao. Gà! Ma WALL-E non mi caga più. WALL-E! Ciao, WALL-E! È bellissimo, è un amore. Però non mi caga. Non ci fai vedere quel coso che compressa la redstone? Ah, lo ho già fatto. Testiamolo subito, allora. Tu metto qui, ci va il carbone. Pum, 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 pum. Pum. Ora lo testiamo subito. Lo mettiamo dentro questo coso. Va a carbone? No, questo andava a redstone, no? No, va a carbone. Ah! Pum! Sì, sì, certo, bene. Dopo aver visto questo, vi possiamo salutare? Salutiamoli? Perché io non volo più? Ah, i jetpack! I jet... Come ci scende, ragazzi? Ma, no. Ok. Vai. Ci saluto. Ciao a tutti, spero il video vi sia piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi e ciao, alla prossima!